Dami i tempi Allora Mario Riba, noto anche come Riba Noto anche come Mr. Takobi Che nelle MR Chiocciola Takobi Mario Riba A volte mi sbaglio anch'io Già abbiamo il ban Noto alla cronaca L'unico detto è bannato dal forum Vabbè storia vecchia Allora Takobi è anche uno degli sponsor Della manifestazione per cui Io gli faccio un applauso Perché loro oltre a contribuire Operativamente con il codice Hanno sostenuto il progetto Sono partner dell'associazione D'Italia Quindi rientra in tutto quel contesto Di cui abbiamo narrato questi giorni Io non ti rubo altro spazio perché poi Dobbiamo andare a prenderci il caffè Buon lavoro Bene, grazie a tutti Siamo ancora tutti qua dopo due giorni Con tante informazioni Da vari fronti Quindi cerchiamo di resistere ancora A questo quarto d'ora 20 minuti Mi sveglio anch'io nel frattempo E vi dico due informazioni Vediamo se funziona Perfetto Allora io sono Mario Riva Come dicevamo prima Sono tra i fondatori di Takobi Assieme a Lorenzo Battistini In Takobi mi occupo di analisi funzionale Di rapporto col cliente Rapporto commerciale Andando un po' al passato Cosa che mi serve poi per ricorregarmi più avanti Mi sono sempre occupato prima di formazione Formazione anche su piccole realtà aziendali Consulente sul mondo web Con un software Anch'esso open source Che si chiama Plon Magari qualcuno lo conosce E volevo fare con voi due chiacchiere Per ripercorrere un po' Quello che è successo Dal 2008 Fine 2008 Cioè da quando ho conosciuto Quello che si chiamava OpenRP Ad oggi Sono proprio due concetti Due chiacchiere Giusto per mettere un po' insieme Anche tanti aspetti Che abbiamo visto In questi due giorni Dicevo Fine 2008 Community Approdo sulla community Inizio a fare un po' di traduzioni Inizio a conoscere alcuni Alcuni di voi che sono anche qua in sala Eravamo proprio una manciata di persone E poi nel tempo Quindi di lì ho iniziato a appassionarmi Grazie a Lorenzo Grazie a Davide Corio Che si è citato un po' di volte In questi giorni Insomma è nato il percorso Che ci ha portato poi nel 2018 A fondare Tacobi Quindi OpenRP Odoo Tacobi Cos'è cambiato? E' cambiato molto In questi anni Il prodotto Era all'inizio Quando era OpenRP OpenRP 5 Era di fatto un framework Su cui Noi integratori Meglio Gli integratori veri Perché poi anche a me Come lei ha detto Basta Non sviluppare più Perché fai dei danni Così Si sviluppava Si sviluppava Quindi era un qualcosa Che era C'erano già molte funzionalità Ma all'epoca Era un framework Su cui si andava a costruire Passando gli anni Ogni anno Un nuovo release Ogni anno Un avanzamento tecnologico Nuove funzionalità Grazie a Odoo A SA Grazie alla community Partner Agli appassionati E' diventato quello che Conosciamo oggi Avete visto che Il mondo L'ecosistema Odoo E' un ecosistema Molto complesso Possiamo vederlo Da tanti punti di vista C'è Odoo Casa Madre C'è la community È un software Estremamente orizzontale Che si occupa Di tanti aspetti aziendali E quindi Cosa succede? Io vi racconto Quello un po' Vissuto anche da un punto di vista Proprio di rapporto Con il cliente Odoo È un software Che può raccogliere L'interesse Di diverse tipologie Di aziende Micro imprese Medie aziende E adesso Come diceva ieri Davide e Speranza Anche grandi aziende Su cui si riesce a vincere Anche una sfida In confronto con I soliti Big vendor Non so tra di voi Chi ha clienti Nelle tre fasce Se più micro Medie O anche grandi aziende Quindi Il dialogo Con queste tipologie Di aziende È ovviamente diverso In passato Mi è successo Di ricevere telefonate In cui Dialogavo magari Con una persona Che aveva Il negozietto Sono in due persone Oppure Con una grossa realtà Che voleva capire Che cos'era Odoo Realtà di servizi Di produzione Mondo retail Eccetera eccetera Quindi è veramente Un ecosistema complesso Dove Il dialogo Anche solo Per come ci poniamo noi Nei confronti dei clienti O di chi arriva E vuole conoscere A volte Non è così facile Qualcuno ieri diceva C'è il rischio Di Cioè Bisogna essere tutologi Forse Marco E L'idea adesso Forse quella Come invece diceva Davide È Andiamo a specializzarsi Perché sta diventando Veramente un qualcosa Di complesso Vi riporto Alcune delle domande Vediamo se Tra di voi qualcuno Ha ricevuto domande Di questo tipo Mi dice Tutte le funzionalità Di Odoo Per telefono Quindi chiamata Ho visto Odoo Interessante Per telefono Come faccio A raccontarti Odoo Cioè Era già molto difficile L'open ERP Figuriamoci Odoo Adesso È impossibile Quindi anche se io sto lì Un'ora Due a raccontarti Anche in videochiamata È già molto più facile Abbiamo un supporto Però è molto difficile Spiegarti tutto Quello che c'è in Odoo Allora vieni da noi domani A fare la demo Domani Vieni subito Vieni subito Perché noi dobbiamo partire La terza Chi Chi non ha avuto Questa terza domanda Dobbiamo scegliere Partire il primo gennaio Paolo Non Mai nessuno A febbraio A febbraio A febbraio ti dicono Dovevamo partire a gennaio Ok Di che anno No no di quello Esatto Quanto costa Noi facciamo tutto standard Quindi Questo per farvi capire Che È molto difficile No Il dialogo Su una realtà così complessa E dall'altra parte È molto difficile far capire E poi rientriamo Nell'altro ambito Che si è discusso Ciao ciao Andrea Ma fa la contabilità La contabilità La diamo per scontata Quindi Chiama qualcuno La vede Ha il CRM Bellissimo C'è la parte vendite La progetti Tutto fantastico Poi iniziano A fare Tutta una serie di domande Produzione Ah la contabilità Neanche glielo chiedo Perché La diamo per scontata Ora Quando mi facevano Questa domanda Su OpenRP Adesso Dopo tutto il lavoro Generale Associazione Eccetera La possiamo dare per scontata O quasi Insomma Comunque Comunque La contabilità C'è E funziona C'è ancora qualcuno Che però dice Ah però Mi hanno detto Che non fa la contabilità Quindi c'è una cattiva informazione A livello Proprio di comunicazione Per cui non arriva il messaggio E questo È un qualcosa Che l'associazione Sta portando avanti E sta arrivando Quindi Non sanno Che effettivamente Questa famosa contabilità C'è E funziona Poi Noi facciamo tutto internamente E poi All'incontro Alla chiamata successiva Scopri che fanno solo Le fatture E poi Oppure Per carità La conta La fa il commercialista Qualcuno dice Vabbè Tanto che lo paga a fare E quindi Va bene I cespiti Sì sì Beh i cespiti Fino a un certo punto Io li evitavo Come argomento Chi fa queste domande Diciamo C'è una correlazione Tra il tipo di domande E aziende In alcuni casi Sì In alcuni casi No Le medie aziende Quindi in realtà Già un po' più strutturate Dove abbiamo Un IT manager Fanno domande O si pongono I confronti di UDU In un modo Un po' diverso Rispetto proprio Le piccole realtà Cosa succede Magari una media azienda Un responsabile Un appassionato Un tecnico Che vede UDU Lo scopre Parla con noi È tutto sistemato E poi in realtà E poi in realtà Chi sta dietro Chi deve prendere la decisione È poi difficile da convincere Per discorsi Che probabilmente Avete già affrontato Anche voi E però Se prendo UDU Magari Non sono così sicuro Che sia tutto ok Vado sul big vendor Perché almeno Se succede qualcosa È colpa Del leader Di mercato L'IT manager Ha difficoltà di visione D'insieme Quindi magari Si parla con una realtà Che è già un po' più strutturata Parlate con uno Ma si perde Delle informazioni Non conosce il modo Di lavorare Dell'azienda Ci confrontano Con i grandi Quindi vanno a dire Ma Quell'altro fa Questa funzionità Voi non la fate Maggior budget Quindi vi lascio lì Un po' come spunti Perché andiamo un po' Un po' veloce Maggior budget Non è detto Non è detto Che le medie aziende Soprattutto le medie Abbiano poi il budget Per le richieste Che vi fanno Perché magari Vi fanno delle richieste Molto complesse E non è detto Che svilupparle Sia poi così Facile Insomma così Con piccoli sforzi Piccole aziende E poi arriviamo Un pochettino A quello che Abbiamo deciso Di fare con Tacobi Quindi vi racconto Brevemente questo Sulle piccole aziende Solitamente C'è una mancanza Di competenze Cultura digitale Quindi Il discorso Andiamo Nel 2025 Raddoppia Il mondo cloud Il fatturato Del mondo cloud In questo Portare le aziende Quindi anche L'ecosistema italiano Che è fatto Di tante piccole aziende Perché lasciarle indietro Lasciarle su Excel Su Access Su software verticali Che fanno magari Una cosa E non fanno il resto Quindi qua c'è una Mancanza di competenze Cultura digitale Quindi le piccole Vanno educate Mancanza di tempo Per software selection Quindi non hanno Proprio il tempo Non hanno la mentalità Di fare Una software selection Adeguata Oppure pagano Qualcuno Che faccia Questa software selection Ma è già un po' particolare Scoraggiati dai costi In alcuni casi Si scoraggiano Perché dicono Ok vedo già Che deve venire A farmi la demo Fare L'installazione Su server Insomma Si allontanano Il rischio È di perderli Quindi il rischio È di non farli entrare Nell'ecosistema Odoo Due punti così Per Diciamo Di trascorso Come dicevo Dall'inizio Oggi Quando si affronta Un cliente Quello che ho vissuto Odoo Un sistema Dicevo Complesso Che si è evoluto Negli anni E ogni anno C'è una nuova versione C'è il mondo CA Ci sono Magari I propri moduli Personali Così via Quindi io Da commerciale Quando andavo a fare Le demo Dai clienti Dicevo Ah si Adesso Allora Abbiamo Abbiamo il cliente Sulla versione Adesso vi faccio vedere La versione 12 Il cliente Facciamo la demo Ah ma questa funzionalità C'è Eh si però Ce l'ha un nostro cliente Sulla versione 10 E quindi c'era un po' La difficoltà Proprio di Varie versioni Vari canali D'ingresso Eccetera Dialogo difficoltoso Perché non c'è una Base comune Di comunicazione Intendo Soprattutto per le piccole In realtà Legato un po' Il punto di prima Cioè Io parlo Delle vendite E ho in testa Quello che fa Odu Il cliente Dall'altra parte Magari mi dice Sì ma Ha in mente Tutto un altro flusso Quindi non è detto Che effettivamente Ci capiamo Tempi di risposta Non accettabili Per il cliente Vabbè Devo partire Il primo gennaio Però prima Dobbiamo capire Cosa ti serve Non ce la facciamo Spunti di riflessione Che mi sento Di condividere Abbiamo detto Odu è molto complesso E molto vasto E molto orizzontale E può coprire Benissimo Tanti target Definire un target Per noi In Tacobi Abbiamo deciso Definiamo un target Che poi è quello Delle micro e piccole imprese Quindi definire Concentrarsi Per non disperdere energie Su un target Grandi aziende Medie aziende E così via Oppure Come in parte Si è detto Verticalizzarsi Su un ambito Perché sta diventando Veramente complesso Concentrarsi Su una o poche versioni In questi giorni Sia lato Odu S.A. Sia lato O.C.A. Si è detto Dell'importanza Di rimanere Su poche versioni Su una versione Sarebbe l'ideale O comunque Su poche versioni Cioè continuare Nella migrazione E avere una situazione Più ristretta Più concentrata Sia per una questione Di dispersione Di energie Sia lato funzionale Sia lato sviluppo Sia per una questione Di sicurezza Insomma Tutto quello Che è stato detto Da chi ha parlato Prima di me Dare la possibilità Al cliente Di sporcarsi le mani Questo va a coprire Quel problema Di comunicazione Cioè I clienti Se si sporcano Le mani Se possono mettere Le mani Su Udo Se possono provare Loro In una prima fase Magari hanno difficoltà Però poi Il dialogo Il dialogo Anche potrebbe esserci Per consulenze Per sviluppi successivi Sarà molto più facile Il fatto di far provare Il cliente Su Udo Così com'è Non è Ovviamente Non è un'idea mia Ma un'idea Che arriva Da un Udo Experience Di 5-6 anni fa Dove Udo In Belgio Diceva Fate partire Il cliente Udo ormai è un prodotto Fatelo partire Su quello che c'è Poi Ne parliamo Quindi Proprio per Una questione di dialogo Fornire documentazione In italiano Adesso anche In Udo Insomma C'è molta documentazione Con l'inglese Ce la caviamo Ma abbiamo un po' Di difficoltà In Italia Quindi Fornire documentazione In italiano È una cosa Che può far avvicinare Il cliente Soprattutto i piccoli Portare il cliente A comprendere La pronunciabilità Di Udo Prima delle richieste Dei sviluppi Niente Questo l'ho già detto Come dicevo Risolvere una serie Di problematiche Per rendere Udo Competitivo Per le realtà italiane Quindi concentrandoci Sul discorso italiano Oltre a quello Che ho detto Soprattutto adesso Per la nostra esperienza Sulle piccole realtà Ci si va a confrontare Con dei competitor Che hanno Da sempre avuto E forse In modo un po' blindato In alcuni casi Quindi di lì Poi hanno Un altro Hanno delle altre Diciamo Hanno delle negatività In quel senso Hanno l'idea del prodotto Quindi il prodotto Deve essere vicino A chi lo va a utilizzare Vicino al cliente Abbiamo visto prima Il confronto Tra Tra il software Incasinatissimo E il software Invece con un'interfaccia Come quella di Udo L'altro punto è Fargli trovare Già un qualcosa Che sia Già configurato Già vicino Alle sue esigenze Soprattutto Quando possibile Soprattutto Su determinati ambiti Come ad esempio La contabilità Quindi ad esempio Quello che facciamo noi In Tacobi È far trovare La localizzazione Quella che trovate In OCA Quindi quella di cui Si sta parlando Si è parlato in questi giorni Però con tutta una serie Di configurazioni Già fatte Quindi non andiamo noi A poi a rifare La configurazione Perché Non rientrerebbe Nel nostro modello Di business Ma proprio perché Il cliente dice Ah però dall'altra parte Mi trovo già La ritenuta da conto Già Un esempio Di ritenuta da conto Già configurato Oppure In versione contabile Perché devo andarmi A mettere io tutti i conti Ma la trovo Già configurata E così via Quindi qui ci sono Un po' di esempi Su punti 20 Insomma Rendere il prodotto Effettivamente un prodotto Capitalizzare le funzionalità Richieste dal cliente precedente Questo si ricorrega Un po' il punto Delle versioni Dei pacchetti Dell'ecosistema enorme Di moduli sparsi Non Diciamo Non tenersi il modulo nascosto E poi presentarlo al cliente Nel momento in cui lo chiede Ma Già dirgli Questa funzionalità Odoo la fa Perché questo Cosa fa Aiuta A far capire Che Odoo Un software Che fa Che fa molto Che è completo Che è funzionante E così via Niente Questo in parte Lo dico velocemente Tacobi Noi ci concentriamo Sulle piccole realtà Quindi andiamo a colpire Quelle piccole realtà Che Avrebbero difficoltà O hanno difficoltà Nell'approcciare Odoo Diciamo Con Una configurazione Un po' più Italiana Ci basiamo Su Odoo 12 Community 12 perché L'organizzazione Completa Quando saremo Ok sulla 14 Ci sposteremo Di là E l'idea E prendere Proprio Una faccia di mercato Delle piccole imprese Dove dicevo C'è una mancanza Di competenza Cultura digitale Noi cerchiamo Di assolvere A questo punto Rilasciando Documentazione Gratuita Sul sito Quindi Uno può andare lì E vedersi La documentazione Questo Comunque Rientra Nel Un po' Nella mia idea Di formatore Come dicevo Fin dall'inizio Perché creiamo Una base Culturale Nel sistema Italia Poi Vedremo Poi magari Non userà Do Ma non importa Cerchiamo di portare Avanti il paese Puzzle di software Lo dicevamo Prima Ok Ha tante Realtà Spezzettate Odoo Per forza di cosa Ovviamente Punta a coprire Tutte le loro Esigenze Su un software Unico Sulle piccole realtà Non è detto Che debbano Poi avere esigenze Estremamente verticali Su un ambito Quindi magari Per loro è più importante Coprire Più ambiti Con un solo software Utilizzare Una base dati Comune Che è poi Il vero valore Che le aziende hanno Costi di acquisto Elevati In senso Anche i competitor Non di costi più elevati Quindi non riusciamo A entrare sul mercato Proponendo un software Estremamente Completo A prezzi Competitivi E mancanza di tempo La proposta è Attivate Su un'infrastruttura SAS Lo provate E poi Si vedrà Insomma Poi potete Continuarlo a utilizzare Le realtà Che affrontiamo Sono sempre Delle piccole imprese Piccole o micro E per come Eudu Progetti Mondo retail Quindi punti vendita E-commerce Oppure Martigiani Quindi Produzione Piccola produzione Partner Tacobi Quindi qua Giusto Una slide Per chi Sta arrivando Nell'ecosistema Odoo Che abbiamo detto È molto complesso In questo momento Abbiamo Questo è uscito Un po' così Nel senso che Qualcuno ci ha chiesto Abbiamo appunto Possiamo essere Dei partner In quanto Chi vuole Può attivare Può usare Tutto Tacobi Come base E Diciamo Appoggiarsi Un po' La nostra esperienza Quindi Aver fatto fare A noi I passi In questi anni E poi Diciamo Appoggiarsi A quelli che sono I nostri servizi Da un punto di vista Delle figure Se si è un funzionale Come poteva essere io Ovviamente L'installazione Il backup Le fix Quindi noi siamo Su un sistema SAS Se le ritrova Già fatte E abbiamo Dei partner Che di fatto Vanno a A vendere I loro servizi O le loro consulenze Usando Tacobi Come base Quindi Uno due community Più localizzazione Più una serie Di facilitazioni Che sono state Introdotte Per quella fascia Di micro imprese Se sei uno sviluppatore A volte capita Anche di avere Qualche sviluppatore Che ci contatta E Vuole Approciare Dei clienti Quindi il classico sviluppatore Che poi va in queste piccole realtà Che conosce Che è sul territorio Ma che non vuole preoccuparsi Di tutte le questioni Più funzionali Non vuole assolutamente Occuparsi Della contabilità Per carità E quindi Può farlo Può sviluppare In autonomia I propri moduli E poi Farceli revisionare E Li possiamo mettere Nel nostro ecosistema Basta Finito Perché Andrea Mi fa i segnali Caffè Caffè Bene Intanto Ti ringrazio Per l'intervento Ci sono domande Per Mr. Tacobi Mr. M.R Mario Caffè Ci sono domande Siamo tutti scarichi Abbiamo bisogno di caffè Tu stai aspettando a me Per andare a bere il caffè Va bene Allora Io ti ringrazio Per essere stato Diciamo Presente agli O2 Days Per portare l'esperienza Di Tacobi E comunque Di contribuire A dare ulteriori input Per tutti quelli Che ancora stanno resistendo A queste due giorni Allora Ci facciamo la nostra Mezz'ora di pausa Alle 16 Sono le 16 Per l'intervento